Sei come un lupo. Un lupo che vaga da solo nella foresta. Io inizierei con una piccola discussione in gruppo per poi proseguire da solo. Ti va di raccontarmi la tua giornata? A volte mi domando come io possa meritarmi una persona come lei. Stefani ti amava. E chi cazzo è lei? Non puoi scappare ogni volta che ti trovi in difficoltà. Stai scherzando? E qui sono io che comando. Prima o poi te ne renderai conto e sarà doloroso. Il materiale che c'è qui dentro dovrebbe aver ricevuto almeno una decina di denunce. Io non sono così, ok? La terapia è fondamentale proprio per questo motivo. Siamo qui per aiutarti, cazzo. Vedrai che ce la farei. Perché non mi fido di lui? Perché non mi fatti vedere mia moglie? Era lì, mi ho vinto! Pensi che a me piaccia vederti così? Tu non lo ami. La tua è pena. La sto perdendo, lo sento. Sei diventato uno strozzo. Ora dubito anche del fatto che mi abbia mai amato. È nertoso. È nertoso. Confonde la realtà con immagini prodotte dalla sua mente. Sono tutte stronzate. Sai cosa ti dico? Non me ne frega un cazzo. Io solo fare la cosa giusta. La farei. Mi ha portato via tutto. Dovremmo abituarci a questa sua nuova identità. Dima solo! No. Chau! Chau! Grazie a tutti